Perché i consigli comunali vengono chiamati a votare una roba del genere, che veramente è un pasticcio incredibile. Anche perché dal punto di vista giuridico creare un ufficio unico di dipendenti della provincia che sono distaccati a quest'ufficio in modo che possano servire anche altri enti è un tirare le norme da una parte o dall'altra che è veramente borderline. Altre interventi? Ci sono altri interventi? Lascierei la replica alla giunta. Sindaco? Insomma, sulla genesi, non torno sulla genesi, in parte posso capire, in parte posso anche condividere. Insomma, il pasticcio delle province, insomma, sono stato due giorni fa in provincia, appunto, gliel'ho ricordato. Perché poi questo ne consegue che le strade provinciali hanno le buche o scarsa manutenzione, che sulle scuole si fa fatica a ragionare, scuole provinciali si fa fatica a parlare di programmazione, ma bisogna vivere alla giornata. Oggi mi pare che c'è un decreto che appunto stanzia, non mi ricordo quanti, miliardi alle province, perché poi effettivamente le competenze sono rimaste, ma i soldi invece gli sono stati tolti, per funzioni che invece sono importanti. Lì c'è del personale che ci lavorava, che prima provincia di Modena, lo dico, insomma, riconoscendo che la provincia di Modena è una provincia che funzionava, di 700 mila abitanti circa, e quindi non una microprovincia o cose di questo tipo, quindi fu una scelta assolutamente, insomma, ci si accanì. Dopo le comunità montane, che erano il male di tutta Italia, sono state abolite, sull'altare della patria bisognava immolare qualcos'altro e sono passate le province. Speriamo che, insomma, queste mode passino. O almeno, se si vuole mettere mano all'architettura istituzionale, ci si metta con un attimo di, un po' più di calma e senza farne una battaglia di parte di qualcuno. Niente, entrando nel merito di questa convenzione, posso dire che, guardate, non ho dei dati puntuali per rispondere a Paola, perché dovremmo metterci lì e quantificare anche le telefonate, le mail, tutto il lavoro di consulenza che è difficile, cioè sarebbe un lavorone. Perché quello che è stato detto è, certo, che nel momento in cui ci si trova la possibilità di avere tra i propri, come dire, avere la possibilità di avere un costante colloquio con degli avvocati preparati, anche su più materie, non sono semplici, ovviamente, però ovviamente che hanno una linea guida, che è quello, insomma, il tema degli enti locali in tutte le loro sfaccettature, il colloquio è sempre stato molto proficuo. Il lavoro è sempre stato, per quello che posso dire, di qualità, appunto, non abbiamo avuto segnalazioni o, appunto, non abbiamo perso cause per manifesta incompetenza. Ecco, questo non è ancora capitato e quindi il lavoro che è stato fatto è prezioso. Rimane, appunto, il tema che sono gli stessi avvocati che possono dirci in questo periodo siamo berati, quindi non possiamo assolvere al meglio il compito che ci vorreste affidare. Rimane il fatto che, appunto, il Comune di Vignola, mi ricordo, nel 2014 spese qualcosa come 100.000 euro in un solo anno di spese legali. Questo, grazie a questa convenzione, non accadrà più. Non voglio mettere in dubbio né le parcelle né, assolutamente, il lavoro che è stato fatto perché, appunto, mettersi a contestare. Però vi dico che, appunto, 100.000 euro che possono essere spesi altrove. Ecco, non vi dico che le spese legali non ce ne saranno più, perché, ovviamente, qualche ricorso delle volte che dobbiamo iniziare, che deve iniziare la pubblica amministrazione, e qualche volta che viene, ovviamente, subito e su cui bisogna resistere, ci sarà, e ripeto, appunto, gli uffici comunque trovano nell'aveccatura un punto di riferimento molto, molto importante, autorevole, che, appunto, su cui, appunto, chiedo al Consiglio, appunto, non potendo presentare dei dati concreti, ma ci promettiamo, appunto, di, se iniziamo ad avere uno storico, per poter iniziare a portare dei risultati. Tanto è vero che, appunto, ha portato talmente tanta convenienza, soprattutto in termini economici, ai comuni, che qualcuno dell'ordine aveva chiesto la radiazione dei due avvocati. E quindi, ovviamente, ha dato molto noia a qualcuno. In tempi di magra, come sappiamo, che oggi passano molti ordini professionali, ovviamente la fame gioca delle volte burti scherzi. Comunque, in un qualche modo, la radiazione è stata respinta, quindi oggi, appunto, sulla base. Quindi non è un carrozzone, non è una cosa, perché, appunto, qui ci si è guardati molti in faccia, perché stiamo parlando della provincia di Modena, del comune di Castelfranco e Minio, Castelnuovo, Castelvetro, Cavezzo, Concordia, Fanano, Finale, Fiumalbo, Formigine, Frassinorio, Guiglia, Lama, Maranello, Marano, Montecreto, Polinago, Prignano, San Prospo, Savignano, Sestola, Spilamberto, Vignola e Zocca. Quindi i comuni grossi sono pochi. Comuni piccoli sono tanti, e quindi i comuni piccoli non hanno una mole così importante, però, appunto, per i comuni piccoli o medio piccoli, avere ogni tanto anche una consulenza che nel libero mercato costerebbe di più sicuramente, e anche lì comporta delle procedure, perché oggi anche lì è molto dibattuto sul tipo di procedura, perché ovviamente c'è anche una natura fiduciaria. oggi questa amministrazione si sente, quindi su questa natura fiduciaria, si sente che ovviamente l'avvocatura della provincia, che in questa sede, visto che prima si è parlato degli uffici, mi sento che come amministratore, di poter ringraziare l'avvocatura unica della provincia di tutto il lavoro che ha fatto e del lavoro che farà. e quindi chiedo ovviamente al Consiglio di aderire a questa convenzione, perché appunto il lavoro è stato molto prezioso, ce ne sarà altro da fare, e quindi insomma noi siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto fino ad ora. Bene, grazie Sindaco. Dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, io andrei al voto. Allora, punto numero 6, Convenzione Costitutiva Integrativa dell'Ufficio di Avvocatura Unica Pubblica fra provincia di Modena e del Comune di Vignola. Approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, abbiamo anche l'immediata esecutività su questo punto. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Idemo come sopra. Punto numero 7, Ordine del giorno pervenuto dal gruppo consigliare Vignola Cambia d'oggetto Ordine del giorno sulla salute. Chi lo presenta? Smeraldi. Direi di leggervelo così, diciamo, eh? Sì, va bene. La Costituzione tutela la salute come articolo 32, comma primo della Costituzione. La Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. è uno degli articoli fondamentali della Costituzione che tra l'altro parla di individuo, non di cittadino e quindi di tutti quanti. Considerato che, secondo notizie di stampa, non smentite, negli ultimi 18 anni, posti letto totali negli ospedali della nostra provincia sono diminuiti da 2.500 circa a poco meno di 2.000. un calo che ha interessato in particolare strutture ospedalieri minori come Finale e Castelfranco Emilia convertiti in case della salute. Nell'ospedale di Vignola nei 2.000 i posti letto erano 124, il 31 ottobre dell'anno scorso erano diventati 96. Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Andrea Galli, ha parlato di tempi di attesa per un'operazione intollerabili. Siamo i peggiori in Regione, serve una svolta. Queste le parole di Galli. In totale sono oltre 10.000 le persone che aspettano di essere operate al Policlinico. Naturalmente il Direttore Generale della nostra ASLA, il Dottor Annicchiarico, ha replicato che il problema non sussiste essendo rispettati quasi sempre i tempi previsti. Più cauto, il Direttore Sanitario e Policlinico, il Dottor Sircani, il quale ha dichiarato la sua dichiarazione siamo consapevoli di una criticità sulle spese che ci stiamo impegnando da alcuni anni ad affrontare individuando risposte sempre più efficaci e anche per la casistica più frequente e di bassa complessità questo Sircana sugli interventi. Nell'ospedale di Vignola i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali alla data di ottobre 2018 sono decisamente peggiorati per quasi tutte le prestazioni. I tempi previsti dalla normativa regionale per le prime visite, 30 giorni, e per le prestazioni diagnostiche strumentali 60 giorni non vengono rispettati per angiologia, colonoscopie, gastroscopie, geriatria, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, pneumologia, reumatologia, tau, urologia, Rx, ossa, ecografie mammarie, mammografia, tac addominale, tac torace. Ma non solo, anche per le prestazioni per le quali i tempi di attesa sono rispettati, nella generalità dei casi essi sono comunque aumentati rispetto alle rilevazioni del luglio e del dicembre 2017. Un esempio, per un elettrocardiogramma occorrono 24 giorni, nel 2017 solo 3 o 4 giorni, 3 in luglio e 4 in dicembre. Del resto, il problema delle liste di attesa affligge tutta l'Italia, e non solo il sud, ad esempio. Secondo il sesto rapporto dell'Osservatorio Civico sul federalismo in sanità, per un intervento di protesi all'anca si attende di più in Veneto 107 giorni che in Calabria 28 giorni. Per una coronografia più in provincia di Bolzano 44 giorni che in Puglia 10 giorni. Ci sono ben 11 milioni di cittadini che adebitano ai tempi di attesa troppo lunghi la loro rinuncia ad effettuare una prestazione a 11 milioni e sono 6 milioni e 200 mila i cittadini che dichiarano di aver rinunciato a una prestazione per motivi economici, cioè per i ticket troppo alti. Per queste considerazioni il Consiglio Comunale chiede che il Sindaco Massima Autorità Sanitaria del Territorio si faccia parte attiva per ottenere dagli enti competenti Asle e Regione nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione primo ulteriori garanzie circa la permanenza nel tempo e il potenziamento dell'ospedale di Vignola che negli ultimi anni ha perso posti, letto e servizi evitando che lo stesso venga progressivamente trasformato in casa della salute struttura importante ma che svolge attività diverse rispetto all'ospedale vi ricordo a questo riguardo che anche a Pavullo e a Mirandola ci sono comitati di cittadini in agitazione proprio per la difesa degli ospedali anche se la Regione ribadisce che sono stati potenziati sia Pavullo che Mirandola due informazioni tempestive circa il numero degli interventi che vengono effettuati nel nostro ospedale e i tempi di attesa per gli stessi 3. il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali considerando che quelli attuali sono assolutamente inaccettabili e richiedono un congruo incremento delle prestazioni medesime il Consiglio Comunale chiede note che il Sindaco in futuro metta tempestivamente e regolarmente al corrente i consiglieri e i cittadini dei tempi di attesa di interventi e prestazioni specialistiche fornendo loro tutti i dati di cui entra in possesso essendo la partecipazione e la vigilanza dei cittadini medesimi e l'interazione costruttiva ma critica tra l'amministrazione comunale e l'autorità sanitaria elementi fondanti di una gestione democratica del diritto alla salute non aggiungo altro perché sembra chiaro direi che nel testo c'è tutto quello che c'era da dire interventi Sirotti Alcune cose le avevo già detto in commissione quando hai presentato l'ordine del giorno nel senso che sull'ospedale proprio prima di Natale avevo parlato con la Biondi per con la dottoressa Biondi il direttore sanitario per programmare le prossime commissioni sulla sanità quindi ci sarà mi devono ancora dare la data definitiva ma il mese prossimo in marzo perché il mese prossimo saremo straimpegnati con tutta l'approvazione del bilancio quindi in marzo ci sarà una commissione sulle cure primarie e successivamente sull'ospedale proprio sui dati di attività sono le cose che stai chiedendo anche perché è importante chiedere alle persone che in questo momento stanno gestendo l'ospedale qual è l'attività e quali sono i dati ufficiali a reso conto di tutto quello che è stato il 2018 ma anche rispetto alle prospettive per il 2019 e per e per il 2020 insomma quindi io chiedo se oggi come oggi approvare un ordine del giorno prima di aver sentito quelli che sono i dati ufficiali perché alcuni ho sentito che li hai estrapolati non so dove li hai ricavati tutti quei dati che hai citato sul calino della gazetta adesso io aspetterei di avere i dati di attività di tutto il 18 al 31 dicembre per poter fare eventualmente delle valutazioni mi sembra che su alcuni che alcuni accenti anche se non sono polemici come al solito devo dire